Nel villaggio di Dappertutto i contadini vivevano in pace e in armonia coltivando la terra. A un certo punto arrivò il gigante Scenzo Carappa che combinava guai a ripetizione e terrorizzava gli abitanti. I contadini chiamarono i quattro superiari che chiesero a loro volta l'aiuto del saggio Dino Conta. Gentile signor Dino Conta ci puoi aiutare? Per favore! Per favore aiutaci, ti preghiamo! Oh 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 aiutaci per favore, per favore! Una volta con Google Earth! Ehi dai, zooma un pochino! Dove? Qui? Sì! Ehi, qui c'è qualcosa! Sì, sì! Ehi, qua vedo anch'io qualcosa! Mentre i supereroi cercavano il cervello, senza crappa si addormentò sotto un albero. I supereroi arrivano al labirinto e trovano subito una prova da superare. Dovevano disinnescare una bomba. Guardate, è lì una bomba! Sì, è lì sotto! Arriviamo! Ci sono tantissimi fili, stacchiamo quello giallo! Ma non c'è quello giallo, stacchiamo quello rosso! Proviamo! Sì! Sì! È lì! Guarda! Sì! È lì! Uuuu! I nostri supereroi ora devono sconfiggere il terribile pirata. Ah! Guardate là, un pirata! Andiamo dai! Sconfigiamolo! Sì, addosso! Infine, i quattro supereroi devono evitare gli alberi assassini. Attenti agli alberi assassini! Stiamo attenti e facciamo piano! Shhh! Andiamo dai! Andiamo dai! I quattro supereroi recuperano il cervello e... E' un cervello senza crappa! Sì, lo calmiamo con la musica! Sì, dai, andiamo! Senza crappa, senza crappa, un cervello non ce l'hai! Ma se ti aiuteremo, non combinerà più guai! Sepperemo anche il cervello, per sciopera il nostro suo! Lo faremo tutti insieme con chi è l'amico tuo! Lo faremo anche se non vuoi! Lo faremo ad ogni costo per i tanti supereroi! Crappia più ripara i danni fatti con l'aiuto dei supereroi! I contadini riconoscenti festeggiarono i quattro supereroi e crappa più che diventò il begnomino del villaggio dappertutto! Un brindisi ai supereroi! Evviva! Un brindisi anche a crappa più! Evviva! 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 Grazie!